Busti, tutori e protesi di arto personalizzati, ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna, Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo, la perturbazione abbandona l'Italia sospinta da intensi venti di maestrale, tempo in miglioramento sul nostro territorio. Il dettaglio di martedì 28 novembre. Sul Veneto fino al primo mattino cielo nuvoloso, occasionali e residui piovaschi e qualche debolissima nevicata dai 600-900 metri. A seguire sarà via via più soleggiato. Temperature in lieve ripresa, minime tra 1 e 4 gradi, massime invece tra 8 e 10 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino cielo coperto, con piogge sparse, in genere deboli, ampie e schiarite con il passare delle ore. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove le nubi tenderanno a diradarsi in mattinata, lasciando spazio al sole su gran parte del territorio. Solo sulla cresta di confine il tempo rimarrà più variabile. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime intorno ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Entra nel mondo lolato. Da oltre 40 anni, un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.